Voti in cambio di promesse di assunzioni anche tra le fila dell'azienda campana Tecra, i cui responsabili però non sono mai stati coinvolti nell'indagine. E questa è l'accusa principale che ha portato a processo 15 imputati. Il dibattimento è stato aperto ieri davanti alla giudice Francesca Pulvirenti. Tra i coinvolti ci sono l'ex sindaco Angelo Fasulo e Giuseppe Ventura, già assessore e consigliere comunale. I fatti ricostruiti dagli investigatori toccano la campagna elettorale del 2015 con le amministrative vinte dall'allora grillino Domenico Messinese che bela meglio sul sindaco uscente Fasulo. A conclusione del ballottaggio, secondo la ricostruzione investigativa, esponenti del gruppo politico dello stesso Fasulo avrebbero cercato di procacciare voti promettendo posti di lavoro e facilitazioni amministrative ma anche elargendo buoni spese e buoni carburante. Tutte contestazioni che sono già state fermamente respinte soprattutto dall'ex sindaco e da Ventura che nel 2015 venne rieletto in consiglio comunale hanno sempre ribadito di aver agito nella massima trasparenza e di non conoscere gran parte degli altri coinvolti. A processo sono anche l'altro ex consigliere comunale, Santo Giocolano che non venne rieletto, Gianluca Demetrico a sua volta candidato non eletto, Sandro Italiano, Nunzio Di Caro, Carmela Liuzza, Carmelinda Salucci, Vincenzo Piscopo, Catiusciamico, Razio Nisellino, Rosario Ugueli, Grazio Ferrara, Alessandro Piscopo e Crocifisso Di Gennaro, le difese e il PM Sonia Tramontana hanno formulato le rispettive richieste istruttorie e il giudice a maggio conferirà incarico ai periti per trascrivere il contenuto delle intercettazioni effettuate durante le indagini.